Torna la Serie A, la Juventus comincia la difesa del titolo senza il principale artefice dello scudetto il tecnico Antonio Conte, ospitando allo stadio olimpico il Parma di Roberto Donadoni. A causa della squalifica dell'allenatore bianconero a guidare la Juventus in panchina ci starà il vice Massimo Carrera. Carrera che ha iniziato la sua avventura in panchina con una vittoria nella Supercoppa contro il Napoli potrà contare anche sulla lunga esperienza come giocatore tra le file dei bianconeri. Sicuramente la partita è una cosa a parte, Antonio durante gli allenamenti dà questa carica e in partita cerca di dare altre motivazioni, sicuramente anche se hai a che fare con giocatori navigati c'è sempre bisogno di qualche consiglio in campo, io sono stato anche giocatore quindi l'allenatore ti dava sempre dei consigli e quindi io cercherò, dalla mia esperienza come calciatore, di aiutarli. La squalifica di Conte impedirà al tecnico almeno in via teorica di comunicare con la squadra durante le gare ma Carrera è comunque convinto che questo non influenzerà le prestazioni degli juventini. Non ci ha mai turbato queste cose anche perché, ripeto, Antonio è il primo che quando va in campo fa quello che ha sempre fatto e dà carica a tutti quindi non ci ha mai turbato per niente. La prima gara della stagione sarà l'anticipo di sabato che propone un top game con l'impegno dell'Udinese che farà visita alla rinnovatissima Fiorentina di Montella. Nonostante la Fiorentina sia reduce da un campionato poco esaltante ed abbia cambiato moltissimi uomini Guidolin non si fida dei Viola. Anzi, complimenti alla nuova dirigenza per la scelta di affidare la guida tecnica ad uno degli allenatori italiani più promettenti. Una delle squadre sicuramente, come dici tu, che ha rinnovato molto ma che ha costruito bene mi sembra proprio una bella macchina mi sembra proprio una bella macchina quella che è stata affidata e anche lì secondo me è scelta importante e positiva a Vincenzo Montella perché lui è uno degli allenatori giovani che ha fatto vedere le migliori cose in questo poco tempo nel quale si è affacciato alla ribalta del campionato italiano da allenatore e mi sembra che la squadra sia una squadra che ha tantissima qualità e giocatori di ottimo livello quindi la mia preoccupazione non è tanto quella di pensare che hanno rinnovato molto ma pensare che hanno giocatori bravi. Nelle altre gare di giornata all'anno zero del Milan senza senatori alle stelle Ibre Tiago Silva ricomincia ospitando a San Siro la Sampdoria c'è attesa anche per la Lazio di Pecovic che sarà impegnata sul sempre difficile terreno dell'Atalanta l'Inter andrà invece in trasferta a Pescara mentre la Roma di Zeman riceve all'Olimpico il Catania